Prima mi lasci dire quello che devo dire e poi deciderà. Se lei mi avesse detto che voleva telefonare, io avrei dovuto doverosamente avvertirla che tutte le telefonate in entrata e in uscita dai commissariati italiani vengono intercettate e registrate su un grande computer che sta al Ministero degli Interni a Roma. Ma come? Anche quelle dei cellulari? Ma come? Soprattutto quelle dei cellulari. Sono disposizioni recentissime, sa, per questi fatti terroristici. Allora ascoltano le telefonate, registrano, poi se c'è qualcosa che non gli guadra ci chiamano e ci avvertono. Lei non è un terrorista, non è un mafioso, è incensurato. Di quell'appartamento abusivo mi devo occupare lo stesso perché vede lì dentro, sotto, dentro un baule, ci abbiamo trovato un cadavere. L'omicidio deve essere avvenuto o il giorno prima o il giorno stesso dell'interramento cioè a dire prima che l'accesso divenisse impossibile. Mi segue? Lei si ricorda quanti operai hanno lavorato all'interramento? Mi pare due. Perché lei non c'era.